Quando hai conosciuto il Presidente? Lo avevo già conosciuto allo stadio, ma quando ho saputo che ero una minorena non mi ha neanche chiesto il numero di telefono. Io avevo un'amica che lo conosceva già, questa mia amica mi ha portata ad Arcole. Nell'agendina che ti hanno sequestrato ho letto che in pochi mesi, da gennaio ed aprile, avessi preso 40 mila euro da Berlusconi. Ma nell'agenda che hanno guardato erano segnate le entrate e le uscite, cioè anche il frutto del mio lavoro. Io lavoro ancora, non è che dalla mattina alla sera faccio la mantenuta di Papi. Però ci sono questi appunti, 7 marzo Papi 2000, 13 marzo Papi 2000. È chiaro che questi sono i soldi che mi ha dato Berlusconi, ma non è vero che mi ha dato 40 mila euro. Quello sono le mie entrate annuali e poi penso che i soldi sono suoi e si fa quello che vuole. Te li dava dopo questa serata ad Arcole? Quando avevo bisogno di soldi gli dicevo che dovevo pagare le bolette. Io aiuto la mia famiglia, ho delle persone sulle mie spalle che ho sempre aiutate e quando avevo delle difficoltà gli dicevo ho bisogno di aiuto e lui mi faceva avere dei soldi tramite ragioni spinnele. Quindi quando avevi bisogno chiedevi a lui e poi dopo le serate ad Arcole prendevi la famosa busta con i soldi? Non è che se tu andavi ad Arcole automaticamente ricevevi un compenso. Poi ovviamente tutti abbiamo dei problemi. Vai a casa del Presidente, che fai? Non gli chiedi qualcosa? Penso che chiunque lo farebbe, no? Tra voi ragazze parlavate dei regali ricevuti? Certo, ci chiedevamo sempre, ma tu ieri sera hai preso qualcosa o no? C'erano comunque dei momenti di rabbia, normali, dicevamo quello struzzo, quello vecchio, quello tirchio di m***a, ci arriva una busta da 2000 euro e dice queste cose. In una lettera hai scritto a Berlusconi, mi vergogno tantissimo a doverti chiedere sempre qualcosa ma non vorrei mai tornare ad andare a letto con persone che non mi piacciono. E allora perché continui? Avevo bisogno di aiuto, chi per una cosa, chi per un'altra, chi per il fratello, chi per la zia. Siamo tante ragazze e tutti abbiamo delle esigenze, è normale, no? Chi magari solo per operarsi e chi per rifarsi le tette. In questa lettera tu scrivi che hai bisogno di soldi perché non vuoi tornare a letto con... Con gli uomini che non mi piacciono? Sì, mi è capitato in passato di andare a letto con le persone per una certa cifra. Ti prostituivi? Sì, è capitato alcune volte ma non lo facevo di mestiere. C'è un'altra intercettazione in cui tu dici papi è la nostra fonte di lucro. Certo, io ormai non mi prostituisco più, cosa devo fare? Cerco di cambiare vita e di sistemare grazie a lui. È logico che Berlusconi sia l'unica fonte di lucro che ho. A chi hai chiesto di avere un appartamento all'olgettina? A Berlusconi gli ho detto Presidenti, guarda, io già prima di conoscerla venivo spesso a Milano per il mio lavoro e gli ho chiesto la casa e lui mi ha detto va bene, ti do la casa. Tu non hai mai pagato niente all'olgettina? L'affetto no, le bollette la pago io. E cosa succedeva durante queste scene di arcore? Musica e cena, il Presidente cantava e si divertiva a raccontare migliaia di barzellette oppure andavamo sempre da sotto per un'altra sala dove si ballava. Ma stiamo parlando di balle normale, certo, sicuramente non ero vestita da santa ma neanche in discoteca ci vado vestita da santa. Avevo abiti corti, minigona ma non ci vedo nulla di scandaloso. Queste ragazze parlano di strusciamenti, di balletti particolari. C'è una musica da discoteca e balliamo. A volte sono balli normali, a volte ci mascheriamo. Una volta ero vestita da uomo con la maschera di Obama e gli ho fatto un balletto per ridere. Tutto ciò nella famosa sala del Bunga Bunga? Sì, ma lì tutto è chiamato Bunga Bunga. C'è il Bunga Bunga Teatre, il Bunga Bunga Spa. Lo dice il presidente questo, andiamo a farci un bagno nel Bunga Bunga Spa? Sì, sì, oppure i camminieri, ma anche fra di noi, mentre eravamo a cena dicevamo stasera Bunga Bunga, ma non era una cosa sessuale. Avrai letto le testimonianze di alcune ragazze che parlano di balli molto promiscui, di ragazze mezze nude che poi alla fine si fermano a dormire lì? Anch'io mi fermavo a dormire. Mi stai dicendo che dormivi ad Arcore quando vivevi ancora a Rimini, quindi eri ancora minorenne? Io non è un anno intero che sono qui, io ho fatto 19 anni a dicembre, quando avevo 18 anni vivevo a Rimini, non è un anno preciso che abito all'Ogetina, è meno di un anno. Ma anche le altre ragazze facevano lo stesso? Lui a fine serata diceva che chi non può tornare a casa può rimanere qui, ci sono tante stanze e noi andavamo a dormire. Poi se qualcuno durante la notte si alzava e andava in camera sua, io questo non lo so, io non sono mai andata in camera sua, le ragazze che stanno parlando ora mi sembrano pazze. Per te il presidente chi è? Io lo chiamo Papio, cioè sempre. Anche lui tante volte mi dice, lo sai che io per te sono come un papà, vero? Perché il presidente secondo te ha bisogno di creare questo meccanismo, di circondarsi di tutte voi durante queste scene? Lavora dalla mattina alla sera, cosa deve fare? La sua è una vita di merda e per avere un po' di allegria si circonda di belle ragazze. C'è un'intercettazione in cui racconti a tua madre di aver preso 7 mila euro da Berlusconi, che cosa ne pensa lei di questa storia? Mia madre sa da quanto tempo lavoro, sa tutto e non dice niente, anzi... Cioè è contenta che tu pari ad Arcore? Certo che è contenta, tutti i genitori sarebbero contenti. Io spero che quando avrò una figlia vada anche lei dal presidente, ma ci mancherebbe.